seated spring chest expander seated upright trove come nei video precedenti ho detto in due l'estensore e le due molle le vado a unire ai moschettoni attaccati nel foro in basso e da qui il gioco dell'estirata al petto questa è la prima variante simultanea seconda variante alternata è un brazzo sul cambio il brazzo questo esercizio è fare 3 seri da un minimo di 10 ripetizioni a un massimo di 15 ripetizioni con un minuto di recupero tornasciare ad atto addome e glutei contratti per non gravare il tappo lombare e Grazie a tutti.